Buongiorno amici, benvenuti al canale, le schierate della serie B L'Ascoli, la schierata dell'Ascoli, iniziamo con L'Ascoli La serie B chiaramente 76-77, la seconda squadra è l'Atalanta Poi abbiamo l'Avellino Poi alla terza squadra abbiamo il Brescia Dopo il Brescia la schierata del Cagliari Campionato di serie B 76-77 Proseguiamo con la schierata del Catania E poi la schierata del Como Il Lanerossi-Vicenza, schierata La schierata del Lecce La schierata del Modena 76-77, serie B Sempre 76-77, serie B La schierata del Monza In serie B nel campionato 76-77 c'era anche il Novara Proseguiamo con la schierata del Palermo La schierata poi del Pescara Abbiamo anche il Rimini 76-77, serie B La San Benedettese La Spal Il Taranto La Ternana Infine concludiamo con la schierata del Varese Grazie a tutti ieri Grazie a tutti ieri Grazie a tutti ieri